Ogni tanto mi tornano in mente immagini della mia infanzia, penso che questo succeda a tutti. Spesso mi capita di ricordare pezzetti di sceneggiati che guardavo alla televisione in bianco e nero, sceneggiati che venivano trasmessi in prima serata all'epoca, quando c'erano pochissime opportunità di vedere qualcosa alla televisione e mia mamma mi permetteva di stare alzata fino a tardi a guardarli con lei, soprattutto quando mio papà faceva il turno di notte. Uno di questi sceneggiati che mi è tornato in mente oggi è La traccia verde, mandato in onda credo verso gli anni 70, io comunque ero bambina e me lo ricordo ancora perché mi ricordo questo bianco e nero molto bello. raccontava la storia di uno scienziato che stava facendo delle ricerche sulle piante e che aveva trovato un modo per far parlare le piante più o meno, collegava degli elettrodi alle foglie delle piante e dipendentemente da quello che succedeva nella stanza le piante reagivano e in questo modo era riuscito a individuare un assassino che aveva ammazzato qualcuno nel laboratorio dove c'erano le piante. Ora all'epoca questo questo sceneggiato della Rai che credo fosse tratto da un racconto ma adesso non so non l'ho controllato però veniva presentato come fantascienza perché si parlava di un futuro pazzesco, lontano, incredibile in cui gli esseri umani avrebbero potuto comunicare direttamente con le piante. Stamattina nel mio inbox ho trovato un articolo pubblicato dal The Guardian dove raccontano esattamente questo come in un laboratorio da qualche parte dopo molti studi si sia stabilito come le piante emettono dei suoni molto molto forti paragonabili a quelli della voce umana solo che noi non riusciamo a sentirli perché hanno una frequenza molto diversa da quella percepita dal nostro orecchio sono degli ultrasuoni e questi ultrasuoni vengono solitamente una volta più o meno ogni ora però quando le piante stanno male perché manca l'acqua perché c'è troppo sole perché ci sono problemi con i fertilizzanti che ne so le emettono molto più di frequente allora si ipotizza che questi suoni emessi dalle piante servono per comunicare tra di loro non si sa bene come perché la cosa che mi ha fatto ridere però è che alla fine di questo articolo sul The Guardian poi ve lo vi metto il link chiunque scriva dice vabbè sì è vero che emettono suoni anche i tubi che trasportano l'acqua emettono suoni quando ci passa l'acqua ma non è detto che questi suoni vengano utilizzati per comunicare da tubo a tubo mi sembrava una cosa un modo divertente per terminare l'articolo non lo so comunque occhio alle piante e innaffiatele